Gli animali di bassa corte come importante opportunità di reddito per le imprese agricole. Si è parlato di questo nel convegno della CIE e della Camera di Commercio tenutosi a Monte Labbate. Un progetto credo importante perché dà innanzitutto alle nostre imprese degli stimoli per riuscire anche a trovare alternative alle varie attività che svolgono, vale a dire gli animali di bassa corte. Ai consumatori sicuramente perché da un'analisi, da una ricerca fatta abbiamo riscontrato che c'è molta attenzione rispetto al consumo di questi prodotti, vale a dire gli animali di bassa corte, che poi siano allevati eventualmente nel modo tradizionale. Quindi noi con questo vorremmo stimolare da un lato le imprese ad aumentare gli attuali allevamenti che non siano solo per lato consumo ma che cominciano ad andare in qualche modo nel mercato, e parlo sempre di piccoli allevamenti. Ai consumatori garantire in qualche modo che abbiamo tante imprese nel territorio che svolgono questa attività e che quindi possono trovare in queste imprese quei prodotti che sicuramente loro apprezzano. CIA, Confederazione Italiana di Agricoltori, sta portando questi progetti a conoscenza delle aziende agricole per dare delle opportunità diverse, per dare delle possibilità. Poi c'è chi le recepisce, c'è chi non le recepisce, c'è chi le recepisce con molto entusiasmo e come dicevamo prima il Topinambur sta diventando una realtà molto importante sulla provincia e parecchie aziende hanno destinato piccole parcelle del loro territorio alla coltivazione del Topinambur. Con la bacca di Goji l'anno scorso lo stesso ha avuto un successo quasi inaspettato. Per ultimo, ma è stato il primo dei nostri progetti, quello del pane d'orzo, quindi creare una filiera tra i produttori di orzo locali che poi portavano il loro orzo per produrre pane d'orzo. Grazie Grazie